Solari Bilboa, idratazione multivitamina per la bronzatura più rapida e protetta dell'estate. Pedro, José, a donde van? Vamos a la fiesta! Esta no es la fiesta, es la siesta! Mira el dito! Esto es... Esta fe! Seguro! Si sente quando è estate, perché ha un gusto irresistibile. Si sente quando è estate. Fino al 31 luglio i telefoni Vodafone Omnitel costano 20 euro in meno. Passa a Vodafone Omnitel senza cambiare il tuo numero di cellulare. Noi diamo voce all'estate. And you? Vodafone Omnitel. Fitness di Nestlé. Perché è diverso? Perché è fatto apposta per me. Frumento integrale, poche calorie, un sapore delicato e delizioso. Le donne amano sentirsi in forma con tutto il piacere di una colazione gustosa. Proprio quello che voglio anch'io. Fitness di Nestlé, la linea che ti dona di più. Molto di più. La crema corpo vellutante Neutro Roberts. Gratis a casa tua ogni quattro confezioni di Fitness e Fibre 1. Non ti muovere. È morto. Mason, tu sai che è stato ucciso con il tuo coltello da caccia? Sono indocente. Io assumo la difesa dell'imputato. Su rete 4. Perry Mason. Arringa finale. Sabato alle 20.45. Il volo. Nessuno collauda le auto come il TÜV, il più autorevolente tedesco, che valuta l'affidabilità dei veicoli, sottoponendoli ai test più duri. Più di 3.000 tecnici specializzati. Oltre un milione e mezzo di auto collaudate. 107 candidati. Una sola vincitrice. L'auto più affidabile dell'anno 2002 è Ford Focus. Da oggi con eco-incentivi Ford. Focus TDCi a 15.200 euro con climatizzatore. Esta es la siesta. No, es la fiesta. Si sente quando è estate perché ha un gusto irresistibile. Si sente quando è estate. Mio. Mio. Quanto affetto c'è dentro la parola mio. Tanto quanto dentro fresco mio. Il nuovo formaggio fresco e dolce con un cuore di polpa di frutta. Semplice e naturale per piacere ai bambini. Mio. E' un piacere crescere. Da Nestlé. Come antipasto, insalata di tonno. Come primo, pennette al tonno. Sformato di tonno in salsa tornata. Palmera realizza un sogno. Con tre confezioni di tonno palmera puoi vincere una casa in Costa Smeralda. Tua per sempre. Che tonna. Cosa? Tonno palmera. Gusto da sogno. E' uscita It Mania Dance Estate con AFL65, Mooney, Holly Balance e tantissimi altri. Compra l'originale e parteciperai all'estrazione di 10 scooter Piaggio Liberty. It Mania Dance Estate. Una pelle veramente sana. La vedi, la senti, la tocchi. Con il nuovo Deodorante Sanex a dosaggio controllato, la tua pelle è fresca, protetta e respira grazie all'azione naturale dei suoi ingredienti. Deodorante Sanex, pelle sana. Un aiuto efficace per i dolori muscolari e articolari? Volta Ren e Mulgel. Grazie alla sua formulazione viene assorbito attraverso la pelle. Volta Ren e Mulgel. Combatte il dolore e aiuta il naturale recupero fisico. E' un medicinale. Leggere il foglio illustrativo. Buono. Ne prendo ancora. E la tua digestione? Lo sai. Uliveto aiuta a digerire meglio. Per i suoi preziosi minerali. E così ci sentiamo sempre in forma. Guarda, spicco il volo. Aspettami. Con Uliveto digerisci meglio e spicchi il volo. Il grande cinema di Totò. Sono io. I migliori film del grande comico in videocassetta. Quando può costare? Due trecentomila vini. In edicola Totò Lemocò ha soli due euro e cinquanta. E adesso cominciamo a ragionare. Denti sani o denti bianchi? Commenta dentro non devi scegliere. White System con perlite agisce delicatamente per denti sempre più bianchi. Verifica i risultati con il white test. Tutta la protezione di Mentorant per un sorriso ogni giorno più bianco. È una novità per la tua alimentazione. È l'olio di riso scotti. Delicato. Leggero. Dottor Scotty. Contiene il gamma orizzanolo? Olio di riso scotti. L'olio del benessere. Una pelle veramente sana. La vedi, la senti, la tocchi. Con il nuovo deodorante Samex a dosaggio controllato, la tua pelle è fresca, protetta e respira grazie all'azione naturale dei suoi ingredienti. Deodoranti Samex. Pelle sana. Da Synergy c'è chissà cosa è meglio per te. I fantastici frigoriferi Millennium Whirlpool. Contento? Synergy. La grande catena dal volto umano. Esageri con il detersivo. Alt. Dosano in base allo sporco e alla durezza dell'acqua. E sarà verde per il tuo bucato. In più, risparmi soldi. Dosare bene aiuta l'ambiente. In Edicola su Oggi, Anna Falchi presenta Il materassino da mare. Giallo, arancio o azzurro. Oggi con il materassino ha soli 4,20 euro. Abbronzatura più rapida, più intensa e pelle più protetta. Solari Bilboa. Qual è la differenza tra i sistemi ordinari e Swiffer? I sistemi ordinari accumulano polvere e capelli sul bordo. Swiffer l'intrappola nel centro del suo panno. Con gli altri hai polvere qui e là. Con Swiffer e il suo panno ce l'hai qui e non più là. La polvere non dura perché Swiffer la cattura. Oggi tra i sughi star scegliamo la matriciana e facciamo la prova più difficile. La facciamo assaggiare ai romani. Allora? Buona la mia matriciana. Buonissima. Era un sugo pronto. Lasciatevi sorprendere dalla bontà del gran sugo alla matriciana star. Gran sughi star. Non sughi. Gran sughi. Novanta minuti per assimilare gli schemi di gioco. Per migliorare la condizione atletica. Per confermare il talento dei nuovi acquisti. E per rivedere il campo i campioni reduci dai mondiali. Dal ritiro austriaco di Kappenberg, un amichevole di prestigio per la Roma di Fabio Capello. Indifferita. Su Rete 4. Roma, Austria, Vieti. Domani alle 23.